Parliamo di Cristian Aslani, senza alcun dubbio il nome più chiacchierato e forse più atteso in casa Inter dal momento in cui è scattata la squalifica di Akan Cianoglu che ha portato quindi all'inevitabile schieramento dal primo minuto proprio di Aslani in cabina di regia a Firenze contro la Fiorentina. Si è portato dietro chiaramente un po' di preoccupazioni e devo dire anche da parte di molti dello scetticismo perché comunque si trovava in effetti a giocare la prima partita da titolare quest'anno in Serie A su un campo molto complicato contro un avversario difficile da contrastare per un regista diciamo così alle prime armi. Da questa partita quindi ci si aspettava una prestazione convincente innanzitutto perché bisognava vincere una gara molto importante in chiave campionato ma anche delle indicazioni in ottica futura su questo calciatore. Per me ve lo dico subito delle cose interessanti si sono viste anche fuori dal campo devo dire e ne voglio parlare quindi oggi con voi in questo episodio di oggi in questo approfondimento dedicato appunto al centrocampista classe 2002. Ben ritrovati e ben ritrovati amiche ed amici passioni interisti in questo nuovo episodio di oggi vi invito a lasciarci un mi piace e se non lo avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti quotidiani tutte le nostre dirette e non solo. Vi dico subito che sui quotidiani sportivi Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport in particolare il giudizio su Asdani è stato quello di un 6 una sufficienza così senza infamia senza lode senza particolari picchi anzi per la Gazzetta dello Sport addirittura la sufficienza arriva grazie all'assist che ha fornito sul calcio d'angolo con il gol di testa di Lautaro Martinez. Tutto Sport invece lo premia con un 6 e mezzo 6,5 che è di fatto lo stesso voto che abbiamo dato anche su passioni inter su passioni inter un po' più pieno rispetto anche a quello che scrive tutto sport una prestazione quindi positiva almeno secondo noi qui su passioni inter e anche secondo me appunto una partita giocata evitando saggiamente di prendersi dei grandi rischi. Quindi era forse la peggior serata per esordire dal primo minuto in questo campionato in un momento cruciale della stagione davanti c'era una delle squadre che meglio sanno attuare il palleggio in questa serie A con un pressing che in certi punti della partita rischia davvero di togliere il fiato all'avversario soprattutto a chi deve costruire. Ma soprattutto poteva secondo me anche subentrare un po' quel rischio come lo ha ribattezzato il nostro Antonio redazione di diventare il nuovo Radu interista di farsi cadere quindi addosso la croce di un possibile errore. Quindi c'erano tante componenti a creare delle problematiche ad Aslani la presenza di un giocatore sulla tre quarti fisso lo sappiamo mette sempre un po' in difficoltà sia il regista che il difensore centrale in questo caso De Vrai. Invece grazie anche al lavoro che sicuramente sta facendo con Celanoglu e grazie anche al supporto dei compagni di reparto tra poco ne parliamo tatticamente quella di Aslani è stata una partita molto ordinata e priva almeno a memoria vado a memoria di errori particolarmente gravi. Una prestazione che poi è stata impreziosita chiaramente dall'assist per il gol di Lautaro Martinez uno schema che è stato studiato e che di fatto è stato provato e ha avuto degli effetti importanti una prestazione in cui vi voglio dare anche dei numeri per contestualizzarla meglio perché Aslani ha toccato 61 palloni in questa gara. 61 palloni è un dato importante in una partita in cui l'Inter non ha avuto il dominio del gioco ma ha concesso il maggior possesso palla alla Fiorentina solo Pavard ha toccato più palloni di Aslani c'è da dire che Bastoni è uscito al 67esimo avesse giocato tutta la partita avrebbe potuto anche superarlo però il fatto che comunque Inzaghi abbia tenuto Aslani dentro tutta la partita lui abbia mantenuto distribuito bene anche la rete di palloni toccati è un altro segnale molto interessante. Ha un 83% di passaggi riusciti che è sicuramente un buon dato quindi come dicevo ha commesso anche pochi errori a dargli una grande mano sicuramente c'è stato anche Mkhitaryan che è sempre stato quasi sempre presente in raddoppio in fase di non possesso palla e abile anche ad andare a sporcare le linee di passaggio ai viola. Vi faccio vedere per chi ci segue in video anche uno schermo con nel campo di destra questo un po' più chiaro di colore le posizioni medie occupate in campo il 21 è Aslani il 22 è Mkhitaryan e si vede bene secondo me in questo caso come Mkhitaryan ha giocato piuttosto vicino ad Aslani come posizione media e quindi sicuramente lo ha supportato. Detto che anche con Ceranoglu Mkhitaryan agisce sempre da doppio playmaker in supporto ed è più o meno questa la disposizione in campo però la sensazione questa volta che ci sia stato un po' di supporto in più al regista quindi da Mkhitaryan ad Aslani lo si vede anche nei numeri nei numeri dei palloni recuperati in modo particolare perché Mkhitaryan ha recuperato 13 più di chiunque altro in tutta la partita. Il secondo miglior giocatore dell'Inter è stato Lautaro Martinez con sette palloni recuperati per farvi capire Aslani invece ne ha recuperati soltanto quattro che non sono molti soprattutto se lo rapportiamo magari ad un Ceranoglu che per farvi un esempio recente nella finale di Supercoppa italiana contro il Napoli ne ha recuperati nove più del doppio quindi la fase di interdizione è sicuramente la fase in cui può e deve sicuramente crescere Aslani perché è il punto ovviamente importante in un ruolo come quello che va ad occupare in questo momento c'è anche da dire però non so se siete d'accordo con me che dal primo Aslani nella prima versione che abbiamo imparato a conoscere in Erazzurro alla versione che abbiamo visto al Franchi di Firenze l'evoluzione secondo me in questo senso è stata già notevole non a caso vi cito altri due dati con 12,55 km è stato il giocatore che ha percorso più chilometri in tutta la partita quindi è quello che ha corso di più di tutti ma non solo non è che ha corso a vuoto a corso mantenendo anche la velocità media più alta di tutti durante la partita quindi ci ha messo tanta gamba tanti chilometri ma anche tanta intensità sicuramente quando scattava l'ho fatto mediamente ad una velocità superiore rispetto a tutti gli altri col pallone tra i piedi poi secondo me ha mostrato una grande sicurezza che ha già mostrato altre volte sicuramente le qualità tecniche non le scopriamo oggi le conoscevamo già e non c'erano grandi dubbi in questo senso visto che comunque in questa stagione è già entrato con personalità in diverse partite non semplicissime un esempio su tutti la sventagliata che fa per Di Marco nel finale sul gol di Turam in Inter Roma è una gran bella giocata ma in generale Inzaghi gli ha dato già fiducia in dei finali di partita piuttosto importanti in alcune situazioni delicate il Champions League comunque anche solo per spezzolini ha giocato 6 su 6 in campionato è entrato nel finale a Bergamo contro l'Atalanta e a Torino contro la Juventus quindi finale di partita veramente tosti contro la Fiorentina per la prima volta gioca dall'inizio quindi si sono viste secondo me poche sbavature comunque all'interno chiaramente di una regia che è diversa da quella che propone Ceranoglu e rispetto al quale secondo me Aslani tocca più tocca più volte il pallone forse quello può un po' velocizzarlo ecco credo però che quella contro la Fiorentina possa rappresentare una partita da passo in avanti per Aslani e può essere un fattore davvero importante da qui in avanti magari non un calciatore ancora determinante chiariamoci sicuramente però un interprete più affidabile a questo punto su cui poter fare affidamento appunto nelle rotazioni che all'interno di una lunga stagione che ci vedrà protagonisti ancora in più competizioni e con tante partite avvicinate sicuramente può far comodo poi anzi ti dirò non so che ne pensi se mi dici di rigiocare oggi contro la Fiorentina di nuovo e per qualche motivo Ceranoglu non c'è io dopo questa prestazione ad Aslani riderei fiducia in questo momento per dire e forse ecco il fatto che abbia giocato solo adesso la prima partita da titolare in Serie A e quando è stato lanciato dal primo minuto in Champions come contro la Real Sociedad non era probabilmente la condizione migliore per lanciarlo questa è magari la critica che si può muovere sulla gestione fin qui si poteva coinvolgere di più un pochino prima però a me pare che ci sia un progetto costruito su questo calciatore e comincio a pensare che dei frutti si cominceranno presto a raccogliere la scorsa estate c'erano delle offerte di prestito per farlo partire subito in prestito Aslani però ha saputo resistere diciamo così anzi lui stesso ha spinto per rimanere all'Inter contrariamente a quello che in molti avrebbero potuto suggerire magari perché alle spalle di Ceranoglu si sapeva che comunque avrebbe avuto poco spazio Aslani invece ha deciso di rimanere per imparare dietro uno dei migliori interpreti del ruolo in circolazione tra l'altro questa cosa gliel'hanno sottolineata anche a Dazon nel post partita di Firenze mi è piaciuta molto la risposta che dà Aslani perché vi consiglio di ascoltarlo lo trovate anche sul nostro sito passioninter.com Aslani sottolinea più volte con convinzione in modo particolare mi è piaciuto anche il modo in cui l'ha detto come Ceranoglu diciamo lo abbia preso sotto la sua ala e lo sta aiutando tantissimo a crescere e ha dimostrato una grande maturità sicuramente anche Inzaghi ha sottolineato come intanto ha tenuto benissimo 95 minuti ad alta intensità cosa che serve anche abitudine per stare dentro la partita per 95 minuti e lui sicuramente l'abitudine non ce l'ha visto che sta giocando poco e lo stesso Inzaghi ha sottolineato come anche da parte sua l'unico dubbio su Aslani era appunto il fatto che potesse accettare o meno quel ruolo lì di vice Ceranoglu ora deve dimostrare chiaramente ancora tanto deve dare continuità di prestazioni c'è da dire che anche a causa del ruolo delicato che ricopre Aslani probabilmente non ha fin qui potuto godere di quell'effetto bisse che lo abbiamo ribattezzato cioè non ha del tutto conquistato ancora la allenatore convincendolo a puntare su di lui e preferendolo anche da altre alternative detto che comunque quando c'è stato da sostituire Ciala si è sempre puntato su di lui però ecco quella contro Fiorentina può essere stata una partita non dico di svolta ma da cui prendere slancio ecco anche con con l'Inter anche perché è vero che Ceranoglu ha da poco firmato un contratto fino al 2027 però compirà tra pochi giorni trent'anni il centrocampista turco quindi avrà bisogno anche col tempo di una valida alternativa al suo fianco e non può giocarle tutte quindi l'alternativa va eh va trovata e va trovata un'alternativa in un ruolo che è molto molto particolare abbiamo sempre detto che è difficile sostituire era difficile ai tempi sostituire Brozovic nell'immediato bisogna sostituirlo di reparto poi è andata bene con Ceranoglu un po' la stessa cosa si può dire con Ciala va sostituito un po' di reparto con delle accortezze anche attorno al regista e ed è un ruolo che per come viene interpretato soprattutto nell'Inter di Inzaghi è molto delicato molto particolare con dei compiti specifici non semplici sicuramente e allo stesso tempo mi viene anche da dire visto che li ho citati Brozovic e Ceranoglu a 22 anni non erano sicuramente al livello di rendimento che hanno oggi in quella specifica mattonella in campo Aslani a 22 anni è un giocatore in costruzione in un ruolo molto molto delicato a Firenze però lo ripeto e vado in conclusione sono arrivati secondo me dei segnali incoraggianti adesso andranno chiaramente confermati e poi a fine stagione si tireranno le somme però i segnali secondo me ci sono lo chiedo anche a voi che cosa ne pensate se siete d'accordo con la mia analisi vi ho portato anche dei numeri per poter certificare un pochino tutto per darvi delle indicazioni precise di quello che poi abbiamo visto con gli occhi fatemi sapere che ne pensate voi di Aslani se lo ritenete già pronto a sostituire eventualmente Ceranoglu e se è il giocatore su cui puntare anche in ottica futura vi ricordo di fare un salto nel club di Passione Inter lunedì sera c'è stata una chiamata bella calda mi è piaciuta molto in cui abbiamo abbiamo discusso di tutti i temi arbitrali con i nostri abbonati le nostre abbonate quindi www.passione inter.club se vi va di entrare nella nostra community di fare un salto nella nelle nostre chiacchierate quotidiane e non solo vi aspettiamo lì vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui Grazie a tutti